Salve a tutti ragazzi qui TTD e benvenuti in questo nuovo episodio di Budokai 3 Continuiamo la storia di Vegeta visto che siamo nella saga di Majin Buu Andiamo subito Ok, siamo già con Majin Vegeta ragazzi Perfetto Amen Vegeta Il suo orgoglio Vai così Vegeta Ok, credo che questo sia Sì, controllo elementale di Babidi qui in Majin Vegeta Ok, Super Saiyan, cannone Galic, attacco Big Bang Va bene, possiamo andare ragazzi Ok ragazzi, buttiamoci al prossimo scontro Che credo sia subito con Goku, pianure Andiamo, andiamo a vedere ragazzi Sì, infatti Come hai potuto lasciarti investire dall'incantesimo di Babidi? Il guerriero perfetto Interessante Ok, va bene Vegeta, tanto sono tutte puttanate Ma, cosa abbiamo sbloccato? Super Saiyan 2 Wow, ok, subito, così Ok, scontro ragazzi Majin Vegeta contro Goku Un principe Saiyan Un combattente d'elite Non ti perdonerò mai per questo Mai, va bene Facciamo lo scontro ragazzi Sconfiggiamo Goku Subito Va bene Goku Beccati questo Ah, cazzo, l'ho beccato in pieno Beccati questo Aia Beccati questo Ok, carichiamoci Ok, ho paura 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 Vola via No Cazzo Ok, andiamo Dai che è quasi morto Dai che è quasi morto ragazzi Ce la facciamo Fuck Fuck Vai così Wow, distrutto con la montagna Vai così E' il dinosauro che tira la codata Bam Ciao ciao Goku Non sei ancora morto? Che cacchio mi significa? Goku muori Grazie Che cacchio mi significa sta roba? Vabbè, dai Andiamo Aspetta Vegeta La potenza di Majin Buu cresce esponenzialmente Vabbè Andiamo Mi sa che subito adesso ci dovrebbe essere Lo scontro contro Majin Buu Quello grasso Quello buono Poi Che non è ancora buona Ok Va bene Dove andiamo? Dietro Ok Pianura Andiamo Ok infatti C'è lo scontro Contro Majin Buu Non sei divertente Adesso è arrabbiato Adesso dice addio Wow Sì Lo faremo Lo faremo Vegeta Ok Sconfiggi il nemico Ok Andiamo Vola via Majin Buu Cazzo Ok Vai così No L'abbiamo beccato alla fine del colpo praticamente Ok andiamo Lo potevo beccare meglio No Cazzo Bastardo Quella mossa OP Ha finito tutto Aia Bastardo Le prese Vai così L'abbiamo L'abbiamo battuto col colpo più inutile di tutta la storia di Dragon Ball ragazzi Wow Tu hai fatto male a Buu Un pochino La risata Eh succede Non posso vincere E no Non ce la farai mai Vegeta Ok Questa scena è un po' bruttina Cioè Non brutta nel senso che è brutta Ma è brutta perché è triste Nel senso Trunks Sei il mio unico figlio Vieni qua figliolo Fatti dare una botta Mi stai mettendo in imbarazzo Sono fiero di te figlio mio Porto loro due il più lontano possibile Conto su di te E' piccolo Huh? Non ti survive Eh ma va E infatti C'è una cosa che ho bisogno di sapere Dicami Incontrerò quel pagliaccio di Kakarot In un'altra parte No Tu hai troppo dolore e sofferenza Nel tuo vita Quando tu vai Sì 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 Oh beh Sì Allora Fuori Sì Sì Andiamocene Che cosa abbiamo sbloccato Trunks bambino Ah ok Perfetto Però Goten non l'abbiamo ancora Peccato Ora so cosa devo fare Ti illuminerò Ok E bulma Eh sì Persino per te Kakarot Va bene Boom Cioè praticamente questa è Alla Wakbar Fondamentalmente Ha fatto questo Che Boah Povero Vegeta però Servito a niente Ok Eccolo qua Per la prima volta Vegeta ha combattuto per qualcuno Ops C'è ancora qualcuno Fottuto Majin Bu Eh succede Eh succede Sinceramente però Se Vegeta Vinceva questo Fight E finiva L'arco di Bul Ci sarebbe stato Comunque Sarebbe stato Molto figa Come cosa Soprattutto per Vegeta Rieccolo qua Siamo subito Con Vegeta Ragazzi Quindi Ma voi è diventato Più forte Non so quanto io Posso fare Ci sono gli orecchini Magici Vegeta Devo pensare Alla mia sicurezza Capisci Sì sì Perfetto Perfetto Baba Non preoccuparti Sono sicuro che Bo Viene a me Ricordare cosa succede Se mi vede Una seconda volta Chissà Set personale Super Saiyan Super Saiyan 2 Cannone Galic Attacco Bing Bang Perfetto Andiamo ragazzi Ok Allora Dietro di noi Buttiamoci Oh Pianure Ok Dovrebbe esserci Subito la fusione Ragazzi Quindi subito Il fight Quella potenza Kakarot Sì È lui Eh sì Non c'è tempo Vegeta Perché Perché esce La fusione Più figa Di tutti i tempi Cazzo Vegeta Ok Perfetto Goku Dai Fonderci No No Thanks È l'unico modo Se vogliamo sconfiggere Majin Bu Preferisco morire Che fondermi con te Certo che è stupido Vegeta a volte Vabbè Mi hai illuso Di poterti battere Mi hai reso ridicolo Wow Che stronzo Ok Niente di ciò Che farà Io dirà E potrà farmi cambiare idea Cazzata Anche questa Cosa ne dici Di questo Vegeta Trunks Ha stato Absorbito Ok E dammi Quell'orecchino Cazzata Ha cambiato idea In tre secondi Proprio Tre secondi Now what Thanks Vegeta Andiamo ragazzi Fusione Un altro combattimento È identico A quello Della storia di Goku Quindi Siamo pronti Per un bel combattimento Contro Bu Han Vegito Perfetto Buon Ok Cosa abbiamo sbloccato Di nuovo Potara per Vegeta Però Potara Vegetto Ok Ok ragazzi Combattimento Adesso sono Super Vegetto Ok Cosa Cos'è quello È la tua morte La tua morte Buon Ok Come hai osato Colpirmi Tannonegali Ok Ah Merda Madonna Quanto danno Però Aia Fanculo Ok Cazzo Ah Beccati questo Cazzo Beccati Regalic Fanculo Majin Bu Va bene Fanculo Ho sbagliato il tasto Vabbè Triangolo Bori proviamo in quadrato Proviamo in quadrato Vediamo Ok Oddio Tondo Dimmi che è tondo Dimmi che è tondo Bastardo Cazzo Era quadrato Vabbè Succede Aia Quanto danno Mi farà 1760 Ok Ah Subito Oh mio Dio Mio Dio Beccati Questo Buon Spirit Sword Fanculo Ho vinto la difesa Ok C'è stato comunque Come l'abbiamo sconfitto Ragazzi Dannato Questo è giocare sporco Una fusione Che bastardo Però Perfetto Barriera Non è così grave Si è fatto assorbire Daboo Di proposito In modo Di altri L'unica cosa brutta È che nelle due storie Comunque non cambia molto C'è soprattutto le parti Questa parte È identica Giochi solo No È identica Completamente Succede di tutto Là dentro E Cacarot Vieni qui Trunks e gli altri Sono qua Perfetto Fantastico Vegeta Cerchiamo di ridurlo A brandagli In fretta Ok Ragazzi È come l'altra volta Quindi Ho bestemmiato Molto Spero di non bestemmiare Anche in questa Perché Conoscendo il fight È quello col veleno Quindi Sarà divertente Hai liberato Tutti colori Che avevo assorbito Con tanta fatica Ok Proviamoci La salute Continua a calare Beccati questo Ok No Aia Vai Super Saiyan Bastardo Ok No Merda Beccati questo Ok Vai Bastardo Beccati questo No L'abbiamo No L'abbiamo schivato Oh mio dio Siamo a rischio Come l'altra volta Per una cazzata Del cazzo Ci abbiamo fatta Perché ha battuto Contro il muro Dell'arena Vai così ragazzi Per una cazzata Perdovamo Ok ragazzi Subito il combattimento Contro Kid Buu Ragazzi Cercherò di guadagnare Un po' di tempo Inizia a caricarti Ha Vai 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 Vieni qua Kid Buu Bastardo Beccati questo Ragazzi dopo questa Faremo probabilmente La storia di Goku Di nuovo Però con La roba per sbloccare I personaggi più fighi Quindi Broly E tutti gli altri Poi porterò Gohan In tutte le sue versioni Di cazzo Aia Ok Bastardo Che non sei altro No La combo Va bene Ho capito Bastardo Ma come hai fatto Kid Buu Fa tutti i pugnetti Di merda No Ho fatto una cazzata Ok Super Saiyan 2 Via qua Via qua No No Come a me A teletrasporto Aiuto Aiuto Farà male Farà molto male Farà molto male Ok Mi son protetto Vai così Farà male Però Mi son riuscito A proteggere un pochino Merda Non sono morto Almeno Ok 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 andiamo Vai 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 Attacco Big Bang Ragazzi Ok Con calma Ragazzi Ce la faremo Big Bang Attack Ce l'abbiamo fatta Vai così Attack win Finiamo lo scontro In questo modo Col pianeta Che si distrugge Boom Beccati questo Kid Bu Madonna La distruzione Il pianeta Che si distrugge È una cazzata Però I suoi attacchi Non riesco a contrastarli È più forte di te Vegeta C'è poco da fare Adesso dovrei essere In grado di sconfiggere Bu Fallo e basta Eccolo Mister Satan Ragazzi Colpisci Finiscilo Vai Satan Nell'universo Bam Distrutto Majin Bu Kid Bu E abbiamo Finito La storia Di Vegeta Ragazzi Anche se Dobbiamo Forse Rifare anche Questa Un pochino Per Sbloccare Altri personaggi Vediamo Un po' Cosa abbiamo Ottenuto Mondo di Kaioshin Vabbè Inutile E si L'abbiamo Completata Ragazzi L'abbiamo Completata Hai ottenuto Un'abilità Trunks Puoi usare Trunks Nella modalità Duello Torneo Allenamento Va bene Con i titoli Di coda Ci lasciamo Qua con Questo Episodio Come sempre Se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Commentate E iscrivetevi Vi ricordo Anche di seguirmi Sulla pagina Facebook E su Twitter E se volete Fare una Chiacchierata Con me E parlare In generale Di Dokkan Venite Anche a Trovarmi Su Discord Ovviamente Tutti i link Sono in Descrizione Detto questo Noi ci vediamo Al prossimo Video Ciao a tutti Ragazzi